Chi è il figlio di Adriano Pappalardo, Laerte e perché si è lasciato con Selvaggia Lucarelli? Benvenuta o benvenuto in questo nuovo video se ancora non l'hai fatto ti invitiamo a cliccare sul tasto iscriviti e se ti va puoi lasciare anche un like. Laerte Pappalardo, nato a Milano il 4 marzo 1976, è il figlio di Adriano Pappalardo e Lisa Giovagnoli, conosciuto non solo per la sua presenza in diversi programmi televisivi ma anche come ambasciatore del noto brand di abbigliamento sportivo Outdoor Salomon. Laerte ha sempre cercato di farsi strada nel mondo dello spettacolo mantenendo una propria identità, distinta da quella di suo padre, Adriano. La sua prima apparizione televisiva risale all'età di 9 anni, quando si è esibito al fianco. Del padre con il brano Ricominciamo, divenuto poi sigla del programma Fantastico 5. Con gli anni, laerte ha deciso di seguire un percorso diverso, concentrando i suoi studi sulle lingue, ma senza mai allontanarsi del tutto dal mondo dello spettacolo, nel 2011 ha partecipato all'Isola dei Famosi, reality show al quale aveva già preso parte suo padre nel 2003, nonostante le sue sporadiche apparizioni in televisione. Come durante l'estate in diretta e un episodio di Celebrity Chef, laerte ha coltivato importanti amicizie nel mondo dello spettacolo, tra cui quella con Alessandro Borghese e Violante Placido, oltre alla televisione, ha esplorato anche il cinema. Recitando in vacanze di Natalia Cortina e nella fiction Capri, la storia d'amore con Selvaggia Lucarelli è stata una delle relazioni più seguite e discusse del giovane Pappalardo. I due si sono conosciuti nel 2003, durante l'Isola dei Famosi, e si sono sposati l'anno seguente, dalla loro unione è nato Leon nel 2005. Tuttavia, nel 2007, hanno annunciato la loro separazione, senza rendere pubblici i motivi che hanno portato alla fine del loro matrimonio. Attualmente, laerte sembra aver ritrovato l'amore accanto a una donna di nome Laura. La vita di laerte Pappalardo è stata caratterizzata da una serie di esperienze diverse che lo hanno portato a esplorare svariati ambiti, dallo sport all'arte, mantenendo sempre un legame con il mondo dello spettacolo che l'ha visto crescere. Se siete curiosi di scoprire di più su di lui e su altre figure del mondo dello spettacolo, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace a questo video. Condividete le vostre impressioni nei commenti e rimanete sintonizzati per nuovi aggiornamenti e storie affascinanti. Se questo video ti è piaciuto ti invitiamo a seguirci e a guardare qualche altro nostro video. Se ti va lasciaci un like e commenta con i tuoi pensieri.